Vi ricordate quel video in cui affermavo che ogni birra vuole il suo bicchiere per essere gustata al meglio? Se ve lo siete perso, tranquilli, vi riporto il link qua in alto in modo che possiate vederlo. E se vi dicessi che ne esiste uno adatto per degustare tutte quante le birre? Wow! Beh, almeno così è stato detto dai suoi ideatori. Volete sapere qual è? Ve lo dirò subito dopo che avrete lasciato un like e vi sarete iscritti al canale. Ma soprattutto, dopo la sigla! La gran parte dei bicchieri sono consigliati per consumare al meglio la nostra amata birra. Basti pensare al boccale bavarese, che grazie al massiccio spessore del suo vetro e la maniglia, che impedisce la trasmissione del calore tramite mano, riesce a mantenere la birra più fresca a lungo. Oppure la pinta inglese, che grazie all'ondurazione presente nel vetro, quando beviamo, riesce a fare creare un filo di schiuma alla birra per proteggerla dall'ossidazione. Tuttavia ne esiste uno completamente made in Italy, nato nel 2006, che entra in gioco quando si tratta di degustare al meglio una birra. A tal punto che è stato selezionato come bicchiere ideale per la degustazione di birra in concorsi molto importanti, come per esempio l'European Beer Star. Sto parlando del Tecu. La sua capacità è di 42 centilitri, una misura giusta che permette di ospitare un'intera bottiglia o una lattina da 33 cl, lasciando spazio anche per la schiuma. Anche se dal 2014 a fianco dell'originale è stato introdotto il Mini Tecu, con analoghe caratteristiche funzionali e di design, ma con dimensioni più ridotte e una capacità di 33 cl, per chi intende bersi una birra con più calma. Grazie alla sua forma particolare è in grado di mettere in risalto gli aromi e i sapori della birra, in modo da essere un compagno prezioso per birrai, degustatori, ma anche semplici appassionati. Inoltre a parere mio vanta di una forma molto elegante, voi cosa ne pensate? Il suo nome rappresenta l'abbreviazione dei suoi due creatori, ovvero Teo Musso, fondatore del birrificio Baladenne e pioniere del movimento della birra artigianale in Italia, e Lorenzo D'Above, in arte Quasca, grande sommelier di birra di fama internazionale. Partendo dal calice delle birre d'Abbazia ed osservando le forme di vari bicchieri pensati e collaudati del vino, hanno cominciato ad effettuare ragionamenti e prove. L'ambizioso scopo era quello di creare un bicchiere universale per la degustazione di birra, in grado di mettere in risalto sia i pregi ma anche i difetti del prodotto stesso. Affidarono così la produzione alla ditta Rastal per la creazione del primo prototipo, dando vita così al Tecu 1.0 e successivamente diedero il via a una campagna promozionale per presentare la loro creazione. La reazione del mondo professionale fu inizialmente di forte curiosità, anche se alcuni mostrarono scetticismo di fronte a questo nuovo prodotto. Insomma, ben presto la sua affermazione prese due direzioni. La prima e molto positiva avvalicò i confini nazionali, rendendo subito il Tecu un successo internazionale. L'esempio più noto oggi giunge dagli scozzesi di Brewdog, che lo utilizzarono per alcune immagini promozionali, lasciando da parte il bicchiere ideale per le IPA a loro molto cari. La seconda direzione, ahimè, è stata ancora più incredibile, perché superò addirittura i confini della birra artigianale, quando la birra Moretti scelse il Tecu per il cofanetto speciale della sua birra Grand Cru. Meglio stendere un velo pietoso su questa faccenda. Dalla sua realizzazione sono sorte tante imitazioni del suo stile, anche per bicchieri utilizzati nel consumo di cocktail o altre bevande, non necessariamente solo per birra. Molti di voi mi avevano scritto perché non avevo inserito questo bicchiere tra quelli da birra. Bene, la risposta è che ritengo il Tecu un bicchiere universale per la degustazione, ma non un bicchiere universale per la birra. Con questo intendo dire che ogni stile birrario esige il suo bicchiere, capace di esaltarne i punti di forza per migliorare l'esperienza gustativa. D'altronde il bicchiere perfetto ancora non esiste, ma dobbiamo sempre scegliere quello giusto in base a come vogliamo bere una birra. Al prossimo video!